All'inizio della Val Trompia, Brescia, c'è un cartello pubblicitario dell'azienda del turismo. Dice facciamo armi da 500 anni o più avanti però c'è un altro messaggio pubblicitario. In questa valle si producono pesche, pere, albicocche, fighi. Fiva l'Italia. Made in Italy, l'export italiano ha ripreso a correre. Ferrari, Ferrero, Barilla, Luxottica, Ducati, Beretta. Dal 1997 manca un nome nell'elenco, la Valsella Meccanotecnica, in provincia di Brescia. Chi era Costei? La più grande azienda al mondo produttrice di mine antiuomo. Decine di milioni di pezzi dal 1960 al 1997. Nonostante siano state vietate a livello globale da un trattato internazionale, continuano ad essere usate in molti teatri di guerra. La logica insegna, si producono mine per usarle, non certo per metterle in deposito. Nella graduatoria delle infamità delle produzioni belliche, il vertice è occupato dalle mine giocattoli. Piccoli oggetti di plastica, grandi come un pacchetto di sigarette, di solito con le sembianze di un animaletto. Sparse nei campi, queste armi aspettano solo che un bambino curioso le prenda e ci giochi per un po'. Fino all'esplosione. Immaginatevi il dopo. A domani.